buona giornata amici ben trovati ben ritrovati possiamo dire alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 17 maggio 2024 oggi possiamo dire il giorno dopo perché ieri è stata una giornata memorabile per fano e il suo territorio per l'arrivo del giro d'italia a una tappa che ha coinvolto tutta la città in un clima festoso in un clima gioviale grazie anche al bel tempo e soprattutto ai grandi colori che si sono così disseminati su tutto il territorio dal verde delle colline all'azzurro del mare a rosa che ha pervaso tutta la città procediamo con ordine e diamo subito un'occhiata al santo del giorno perché è un santo che si venera anche nel nostro territorio eccolo qua è san pasquale bailon pasquale è un nome italianissimo bailon non tanto tanto è vero che si tratta di un santo spagnolo infatti nacque nel 1540 a torre ermosa e morì a valenza nel 1592 fu amante grande difensore della eucarestia contro l'eresia dei jansenisti fu frate francescano ma non sacerdote tuttavia la sua predicazione affascinò moltissimi era veramente amante della eucarestia verso la quale così stava in ginocchio ore e ore e andava anche in estasi morì avendo la rivelazione delle sue ultime ore nel suo nome si compirono poi molti molti miracoli e dicevo che anche san pasquale bailon è venerato del nostro territorio per quel bellissimo santuario che abbiamo nelle colline metauresi san pasquale bailon e ora vediamo le previsioni del tempo perché oggi vi dico subito vi dico subito si annuncia bel tempo ecco qua la grafica tempo soleggiato sulla regione con clima asciutto salvo occasionali disturbi nella nottata nel fabrianese la variabilità potrebbe subentrare nel pomeriggio comunque il cielo dovrebbe restare sereno i venti i venti sulle coste espireranno da sud est nell'entroterra da sud ovest e temperature 15 la minima 23 la massima ma con punte anche superiori nel sud delle marche abbiamo tra i 16 e 26 e ad ascoli piceno tra i 17 e i 24 il sole è sorto alle 5 e 40 e tramonterà alle 20 e 27 e questo è insomma la nostro inizio per quanto riguarda la rassegna stampa ed ora diamo subito un'occhiata al resoconto della giornata rosa che si è svolta ieri nella città di Fano vediamo il titolo che appare sul resto del Carlino la città ipnotizzata dal colore rosa una folla stile carnevale saluta il giro ebbene tante tante le cose in rosa che hanno disseminato il percorso compiuto dai girini nella giornata di ieri tra i palloncini i nastri le macchine addirittura colorate di rosa abbiamo anche degli addobbi degli addobbi delle vetrine in centro storico oppure sui balconi delle maschere tutto rosa tutto rosa all'arrivo è stata sventolata una decina di bandiere addirittura anche della palestina e questo è stato un segnale per quanto riguarda la pace e il giro è anche una manifestazione di pace servono a invocare la pace esplosione di entusiasmo quando i corridori hanno traversato le strade poi musica e tanti tanti messaggi diamo un'occhiata a quanto si a quanto riferisce il resto del Carlino intorno a questa memorabile giornata la sfilata delle carnevale ha introdotto l'arrivo dei corridori e poi anche quella della pandolfaccia la sbandierata degli sbandieratori della pandolfaccia c'è stata anche la sfilata delle misse contro la violenza sulle donne e poi la premiazione del concorso vetrine in rosa organizzato dalla cof commercio marche nord il primo classificato è stata la vetrina di max and co premiata dal presidente regionale del coni march al secondo posto il brutto anatroccolo qui è stata conferita la targa da ignazio pucci e ancora terzo classificato l'emporio 51 è stato premiato dalla presidente della cof commercio adifano barbara marcolini e poi tutto la kermesse che dall'ingresso nel nostro comune da parte dei corridori che sono venuti giù da san costanzo a tombaccia hanno varcato il metauro si sono diretti verso l'aeroporto il tracciato ve l'abbiamo spiegato tante tante volte ed è stato reso concreto e mirabile dalle riprese televisive che si sono svolte ieri con una grande promozione per la città di rifano comunque il giro si è risolto sulla salita di monte giove dove il campione il campione al al filippe è riuscito a staccare il l'inseguitore e quindi arrivare solitario in nel traguardo bellissima la sua discesa un po anche vorticosa da monte giove e poi l'ingresso sulla flaminia e poi l'inserimento nelle vie cittadine come via l'italia via giustizia viene azzario sauro viale adriatico ancora viale cavallotti e poi viale 12 settembre e l'arrivo in viale gramsci insomma una ripresa una promozione della città bellissima fano anche dall'alto che è stata promossa in tutta italia e in diversi paesi europei vediamo anche come il corriere adriatico riporta la notizia l'apertura ovviamente sulla pagina di fano eccola qua tappa spettacolare il trionfo per fano celebrata la storia millenaria della città il sindaco premia ala filippe protagonista di un'impresa ebbene giulian ala filippe due volte campione del mondo stabilmente in vetta al gusti degli appassionati per il talento ma anche per il modo inimitabile è anche un po folle di interpretare le corse è un corridore molto molto originale da lui ci si aspettano sempre molte molte sorprese e qui vediamo un momento topico della premiazione con il sindaco che indossa la medaglia della vittoria al campione e poi tante altre foto le abbiamo viste anche sul corriere qui tanti scatti autoscatti immagini telefonini a tutto spiano con fotografie per così conservare i momenti memorabili del giro allora torniamo al resto del carlino e cambiamo argomento e parliamo di politica perché l'altro giorno nel centro storico di fano è stata presentata un'altra lista si tratta di civici fano candidato sindaco luca serfilippi quindi è una forza politica che si pone nel centro destra ed è stata promossa in modo particolare dal consigliere regionale rossi la lista 24 candidati sostiene serfilippi e abbiamo anche delle dichiarazioni ovviamente sono dichiarazioni che riguardano un po gli obiettivi perseguiti da questa nuova forza politica che è un addentellato di civici marche civici fano insomma il stretto collegamento con civici marche la forza politica di giacomo rossi in consiglio regionale si tratta di cittadini nessuno di loro ha dei trascorsi politici consolidati ma ora intendono far parte delle istituzioni per tradurre infatti ciò che i cittadini desiderano e questo è un po il loro obiettivo primo posto hanno posto anche lo snellimento della burocrazia quelle lunghe fasi di consultazioni di di ordinanze di permessi di riunioni che di solito tardano il compimento degli atti il compimento del delibere la lista sostiene appunto serfilippi il nuovo che avanza capace di proporre soluzioni possibili ai problemi della città ed è una lista di cui fanno parte molti agenti di polizia e che significa che anche la sicurezza è un tema del resto la sicurezza e la priorità anche del centrodestra fanese che ha eletto appunto luca serfilippi e la presenza dicevo di cinque agenti di polizia tra polizia penitenziaria e commissariato sta a indicare come la sicurezza sia una delle priorità di questa forza politica vi ricordo che oggi alle 15 30 in duomo si svolgeranno i funerali di giuliano giuliani l'estremo addio della città quella città che lui tanto amava e voleva tanto tanto bella si svolgeranno appunto i funerali alle 15 30 a ricordare l'amministratore che è stato anche sindaco della città ma anche molto assessore alla urbanistica e tante volte consigliere comunale e bene a ricordare gli amici il circolo culturale jacques maritain e poi anche il partito democratico di cui giuliani risultava ancora oggi iscritto ed ora passiamo a monteporzio a monteporzio abbiamo il candidato sindaco e bruno sebastianelli che sale alla ribalta e illustra il suo programma per le scuole fondamentali ha detto le manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade e marciapiedi di solito le amministrazioni comunali difettano per quanto riguarda la manutenzione riescono a realizzare l'opera ma poi non hanno quelle squadre costanti presenti nel territorio e utili a mantenere inefficienza inefficienza tutto quello che è stato realizzato invece sebastianelli dice faremo anche questo cioè cercheremo di costudire quello che abbiamo fatto in modo che si protragga nel tempo e poi non possiamo non evidenziare la festa tipica di marotta che è la sagra dei garagoi la sagra dei garagoi evento dedicato alla tradizione al gusto e al divertimento è una sagra molto molto antica pensate si si fa la settantacinquesima edizione quest'anno quindi veramente è una tradizione che si è inserita nel tessuto sociale dei marottesi e poi i garagoi sono veramente un piatto eccezionale così come lo fanno con quel sugo denso saporoso a marotta è una cosa veramente splendida ebbene in questo fine settimana ci saranno tante tante iniziative organizzate dalla proloco che prevede poi musica stand giochi e poi in questo fine settimana ci saranno tante tante iniziative per il divertimento e anche per i bambini a urbino a urbino c'è una dichiarazione del sindaco gambini in merito a quanto riferito dai tre sindaci del centro-sinistra che hanno tirato in ballo la viabilità da fano ad urbino ebbene gambini ricorda che ora questa strada l'urbinate è di competenza dell'anas perché questo trasferimento dalla provincia all'anas è stato proprio voluto dall'attuale sindaco ucchielli e quindi le competenze non sono più del comune maurizio gambini i candidati sindaco di pesaro valle foglia e urbino non si ricordano la vera storia della strada urbino pesaro e qui abbiamo appunto le sue le sue dichiarazioni a urbino per il premio ilianor wortingdon ben 140 opere d'arte dai ragazzi e si chiusa la cerimonia di premiazione della sedicesima edizione di questo premio sul tema disabilità e autonomia che ha visto ben 140 opere organizzate dai ragazzi partecipanti e sono ragazzi molto giovani dai 14 e dei licei artistici del territorio il concorso curato da giuliana parodi e nunzia invernizi ha visto sette studenti ottenere anche delle menzioni speciali ed ora passiamo alla pagina pesarese vediamo un attimo l'apertura dedicata a personaggi famosi a livello nazionale che hanno così visitato il capoluogo intanto verso le elezioni ovviamente più ci si avvicina e più la situazione diventa calda e qua vediamo giuseppe conte con francesca franquellucci e marta ruggeri la capogruppo regionale in consiglio regionale per il movimento a 5 stelle con una foto di gruppo passeggiare per pesaro e qua lo vediamo con gli stessi gli stessi componenti il governo non tiene conto dei danni che sta facendo a famiglia e imprese pensino solo ai profitti delle banche ha dichiarato il leader del movimento 5 stelle un conto il nazionale un altro il locale a pesaro realizzati progetti importanti sì perché pesaro si sa il movimento 5 stelle fa parte della giunta con il partito democratico appunto dice conte un conto il locale un conto il nazionale dove ovviamente nel nazionale questa alleanza questa intesa non si è realizzata quindi non si è potuto fare insomma tengono conto anche delle caratteristiche e delle ragioni locali di qua invece chi abbiamo abbiamo salvini matteo salvini e qua lo vediamo ritratto tra mirco carloni e il candidato sindaco del centrodestra luco serfilippi luca serfilippi affano salvini va in spiaggia promesse sulla bolkenstein chissà se si potranno mantenere perché sulla bolkenstein quella spada di damocle che pesa sulle spalle dei concessionari di spiaggia e che impone che le concessioni vadano a gara di promesse se ne sono state fatte tante ma intanto questo peso rimane sulle spalle dei nostri bagnini il segretario della lega ha presentato il suo libro al charlie hotel ma prima ha fatto un salto al bagno enrico prelazione alle imprese familiari ha detto magari applicando la bolkenstein dovrebbero essere avvantaggiati coloro che hanno già investito sulle nostre spiagge l'arresto di bezichari questo importante imprenditore della città di pesaro pagò una ragazzina di 16 anni per avere dei rapporti sessuali e quindi è un caso di prostituzione minorile l'imprenditore è stato condannato in via definitiva i fatti risalgono al 2016 quando ci sono stati due incontri con la giovane è un episodio piuttosto triste ebbene a questo punto passiamo al corriere adriatico abbiamo visto l'articolo di apertura dedicato ovviamente alla giornata del giro tappa spettacolare il trionfo per Fano abbiamo anche qui delle belle fotografie e poi vediamo anche altri commenti gara tracciato e pubblico è stato veramente un capolavoro ed è stata una organizzazione complessa molto molto articolata che ha impegnato tantissimi enti dall'amministrazione comunale, le forze della polizia, la protezione civile sono stati tanti volontari che hanno aderito così in maniera del tutto spontanea alla perfetta organizzazione del giro ci sono dovute chiudere tantissime strade rimuovere parcheggi e lo vediamo qui anche un articolo dedicato a questa organizzazione ebbene qualcuno ovviamente ha sopportato dei disagi perché la chiusura delle strade e poi anche l'eliminazione di alcuni parcheggi non è stata accettata serenamente da tutti di vieti di sosta almeno 20 i veicoli rimossi ma pensate che cosa ha fatto la polizia locale dopo aver diramato gli avvisi dicendo guardate che a Foroboario nella caserma Paolini ci sarà un divieto di parcheggio per l'arrivo del giro sono stati diramati tanti tanti messaggi quando sono stati trovati ugualmente dei veicoli in sosta la polizia locale ha intercettato i proprietari delle auto e gli ha detto rimuovete le auto e chi non le ha rimosse alla fine sono state rimosse di autorità e quindi hanno dovuto pagare poi tutto l'ambaradan la multa, la rimozione e via dicendo 20 i veicoli rimossi il direttore di Adria Bus però ha rilevato alcune disfunzioni e le hanno rilevate anche gli autisti del Pincio i quali non erano stati avvisati di tutte le modifiche che erano state introdotte per il transito anche dei veicoli pesanti il direttore di Adria Bus ha strappato gli avvisi sui social alcune proteste per le chiusure delle strade benessere fisico e tecnologia il festival nei luoghi simbolo finito il giro d'Italia Fano non rinuncia alle sue manifestazioni e da oggi partirà un nuovo festival si tratta del Fano Fitness Festival che durerà tre giornate si inizia questa sera la Corte Malatestiana che sarà un luogo di tante rappresentazioni di carattere istituzionale ma il fulcro delle iniziative sarà in modo particolare il Pincio e la Darsena Borghese perché lì il festival propone tante iniziative articolate di ginnastica di benessere fisico che costituiscono le nuove leve appunto dello stare bene col proprio corpo ma anche con la propria mente inizia oggi la tre giorni del Fano Fitness Festival un nuovo evento organizzato da un gruppo di giovani interessati a curare e promuovere il benessere della città l'idea è quella di proporre a tutti i cittadini ma in particolare quelli che appartengono alla fascia d'età della generazione Z ovvero tra i medi anni 90 e i primi anni del 2000 che sono i primi a non aver conosciuto un mondo senza le tecnologie e tutti avranno la possibilità di provare diverse discipline ve ne dico alcune poi non ho il tempo di spiegare che cosa sono che riguardano appunto questo nuovo modo di curare il proprio corpo il cross training e poi il calasthenics e ancora lo yoga lo conosciamo tutti e poi il mindfulness e bene ancora poi ci sono tanti tanti modi nuovi insomma di fare ginnastica una volta noi lo chiamiamo ginnastica adesso si chiama in tanti modi diversi a seconda delle articolazioni che comportano anche il rapporto tra fisico e mente e questo sarà uno dei luoghi e delle iniziative che caratterizzano il nostro weekend passiamo subito a San Costanzo dove serve una svolta ora si deve ripartire dai cittadini lo dice il candidato sindaco Davide Bruscia domani alle 18 presenterà la sua squadra nella sala consigliare e poi a fondo pagina la via la sagra dei Garagoi trionfa la tradizione la tradizione vediamo ancora la pagina di Pesaro perché oggi non abbiamo nell'edizione provinciale di Pesaro quella di Senigallia e vediamo che l'apertura è dedicata a quanto si aspetta dai finanziamenti dai contributi dell'alluvione un anno dopo però non c'è stato nessun risarcimento e qui restano solo danni la mancata bandiera blu a Levante riaccende le polemiche contro la regione non solo il geni che ha il ginocchio anche attività, imprese, artigiane e abitazioni ebbene le alluvioni si è fatta sentire anche nel settore del turismo che non ha ricevuto nessun aiuto nessun sostegno per ripartire e tutto è rimasto nelle spalle degli operatori fondi per il nostro porto tesoro di oltre 11 milioni il centro-destra incontra l'autorità portuale con noi piena sintonia però ci sono opportunità almeno per quanto riguarda il porto e voglio concludere la nostra rassegna stampa questa mattina con questo articolo che riguarda ancora una volta le truffe agli anziani veramente qui la fantasia dei truffatori non ha limite e con telefonate con persuasione con voce suadente riescono sempre a convincere gli anziani a spillare loro dei soldi è veramente interessante leggere quell'articolo per avere delle prevenzioni e questo per il momento è tutto Massimo Faghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani grazie per l'ascolto a risentirci